Bentornati al nostro appuntamento su Rete8. Oggi nella puntata parleremo di un argomento che interessa le famiglie con bambini piccoli. Anche per il 2019 è stato prorogato il bonus asilo nido. Vediamo come funziona. È un contributo massimo di 1.500 euro annui che riguarda le famiglie con bambini nati, adottati o affidati dal 1 gennaio 2016. È un contributo per le rette di asilienidi pubblici o privati autorizzati o per i bambini che sono impossibilitati per patologie croniche, anche per sostenere i servizi assistenziali domiciliari che sostengono le famiglie. Vediamo ancora come funziona. Cosa importante, non è collegata né il reddit IRPEF né all'ISEE, pertanto può essere concessa a tutte le famiglie, quindi è sufficiente che ci sia un bambino al di sotto dei 3 anni per poter avere questo contributo. Una cosa importante è che per avere diritto alla prestazione bisogna effettuare una domanda con allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della prima retta relativa al primo mese di frequenza. Successivamente poi potranno essere prodotte tutte le fatture successive degli asilienidi pubblici o privati. Mentre nel caso di asilienidi pubblici che prevedono pagamenti posticipati, la documentazione che attesti l'avvenuta iscrizione. I bambini di età inferiore 3 anni in possibilità di affrequentare l'asilo nido devono presentare una documentazione rilasciata dal pediatra che attesti l'impossibilità e la patologia grave che causa questa impossibilità e soprattutto per l'intero anno solare di riferimento deve essere la dichiarazione. Come si presenta la domanda? Molto importante, dobbiamo dire che la domanda è attiva da lunedì 28 gennaio alle ore 10, quindi dal mattina del 28 gennaio fino al 31 dicembre 2019 è possibile presentare la domanda online sul sito IMS o in alternativa come al solito tramite contact center al numero 803 164 oppure gli enti di padronato o intermediari dell'istituto attraverso i servizi telematici che mettono a disposizione e per cui li ringraziamo. Mi raccomando la domanda è importante farla visto che non spetta automaticamente e speriamo che possa incentivare la partecipazione al lavoro anche delle mamme. Grazie e alla prossima puntata.